C'è ragà, bentrovati in questo nuovo video, oggi vi voglio parlare un po' della web app web app che sapete ormai uscirà domani salvo clamorosi ritardi, clamorose robe che possono sempre succedere quando parliamo di mamma e yay ma rimanendo fiduciosi in teoria domani dovremmo mettere le mani sulla nostra web app quindi ufficialmente un primo assaggio di FIFA 21 parte quella che è la stagione nuova cosa voglio andarvi a dire oggi? oggi volevo darvi qualche consiglio, volevo un po' cercare di indirizzarvi su quello che secondo me va e non va assolutamente fatto all'interno della web app di FIFA, in particolare di FIFA 21 quindi diciamo che in linea generale sapete che ovviamente avrete giocato tutti quanti a FIFA 20 o la maggior parte quindi una volta che andate a loggare su FIFA 21 dalla web app avrete tutta una serie di pacchetti premio per la vostra esperienza di gioco su FIFA 20 da questi pacchetti di gioco solitamente non è che escano questi grandi play ma comunque qualcosina la si riesce a fare quello che è il mio primo consiglio è innanzitutto di non andare a vendere quelli che sono giocatori che potete individuare come meta quindi che ne so, magari lo zano di turno io direi che ve lo tenete caro caro visto che in proiezione poi quando arriverà la prima Weekend League quelle sono tutte quelle cartine lì che si vanno a rialzare caso in cui siete degli sculoni maledetti disonesti e magari andate a sbustare dall'addentro carte del tipo Messi, Ronaldo, Icon ma anche banalmente voglio dire un Varan, un Pogba eccetera non vendete assolutamente quei giocatori lì presi dalla foga e vi spiego perché, perché è molto facile perché al momento in cui ovviamente viene rilasciata la web app il potere d'acquisto che abbiamo e che hanno anche gli altri utenti è molto molto basso visto che girano pochi crediti e non ci sono grossi metodi per poterne guadagnare quindi quelle carte lì sono tutte carte che vanno tenute e rivendute a distanza una volta ovvero che è uscito il gioco definitivo quindi una volta che la gente ha comunque iniziato ad accumulare crediti o comunque ancora meglio al ridosso della prima VL quando quelle carte lì poi ricevono proprio un'impennata pazzesca anche se una volta che è comunque uscito il gioco se le vendete e poi andate a comprare, comprate comunque vendete a prezzo basso ma comprate anche a prezzo basso quindi è un po' tutto in proporzione per avere proprio un massimo vantaggio doveste prendere prima della prima VL e comprare poi dopo però insomma la ludopatia di avere sotto e subito ce l'abbiamo un po' tutti soprattutto chi deve competere deve essere subito pronto sul pezzo ad avere la squadra forte subito quindi non può starci troppo dietro però diciamo se a voi interessa cercare di massimizzare i vostri crediti questo è un consiglio che mi sento di darvi un'altra cosa che potete sicuramente fare è quella di mettervi database alla mano cercare di individuare quelli che sono giocatori che appunto potrebbero diventare meta e mettervici sopra giornata e giornata ossia quasi tutta la giornata in cui esce la web app e con quei crediti che avete cercare di flipparli per flipparli si intende provarli che ne so a prendere a 1000-2000 se vedete che poi magari possono rivendere a 4000 voi dite eh sì minchia capirai ho fatto 1500 crediti di profit eh eh ho fatto 1500 di profit che intanto a inizio game comunque si fanno sentì anche per fare qualcosa insomma è quello che potete andare a fare ad esempio io ricordo perfettamente che l'anno scorso ho fatto una balanga di crediti con i terzini non rari eh di serie A italiani e qui introduciamo un altro tema perché queste carte sono spammatissime anche all'interno delle SBC avanzate SBC avanzate che assolutamente regà dovete fare a inizio gioco perché da quelle lì non si sa che incantesimo ci sia sopra qualche magia nera c'è di sicuro ma bene o male uscite sempre in positivo quindi non vi spaventate se per farle dovete anche magari andare a comprare qualche carta che non c'avete nel club ma fatele ad esempio l'anno scorso ricordo di aver trovato due volte Allison e un altro high graded pare cross che manco troppo costava però ci sono uscito pulito in positivo quindi fatele perché quelle lì veramente potrebbero svoltarvi l'inizio del gioco e collegato a questo discorso su footbin sapete bene che ci sono quelle che sono le soluzioni alle varie SBC quindi anche lì magari andate a vedere quelle che sono carte che possibilmente possono essere spammate all'interno di quelle SBC mettetevici sopra magari riuscite a prendere a un prezzo contenuto poi le rivendete perché una volta che quella determinata risoluzione va in tendenza poi tutti vanno a comprare in maniera automatica quelle carte e di conseguenza voi potete andare a fare una serie di buoni profitti un'ulteriore cosa che vi consiglio che l'anno scorso io ho fatto ed è veramente costata tanto tanto tempo perché sapete che insomma essendo comunque un giocatore professionista ho la fortuna di poter investire dei soldi in FIFA Points e quindi spacchettare tanto spacchettando tanto regà non dovete assolutamente ma mai all'inizio del gioco scartare la roba ma qualsiasi anche se vedete un giocatore 75 euro non gli date uno spicciolo in mano regà quello intanto se non lo scartate lo mettete sul mercato a 400 piuttosto che scartarlo a 300 vi siete fatti 90 crediti profit che su 90 crediti su 1000 carte sono 90.000 crediti quindi capite il profit che andate a fare quindi un altro consiglio che vi do se aprite i pacchetti assolutamente regà non scartate mandate tutto al club tutto il transferist e vendete ve lo giuro voi non potete capire quanto tempo buttai io l'anno scorso a vendere le carte ma alla fine le ho vendute tutte e la differenza si fece vedere perché infatti veramente guadagnai tanti crediti in più rispetto alle altre cose un ulteriore suggerimento che vi posso dare in base a quella che è stata la mia esperienza da umile giocatore quindi prendete sempre le mie parole con le pizze ci sono tanti santoni in giro per il web che vi dicono investite di qua investite di là comprate questo comprate quello l'anno scorso avete visto come gli investimenti di IF abbiano comunque portato ad un fallimento visto che le sfide Icon sono state tolte e quindi soprattutto gli IF della prima settimana che vi siete comprati con l'illusione di dire cavolo questo salirà perché raro è l'IF della prima settimana no io il suggerimento che vi posso dare piuttosto che fare investimenti a lungo termine andatevi a comprare a flippare le carte perché quello di cui avete bisogno inizio game è questo ossia fare crediti in maniera rapida ed efficace quindi niente io mi sento di aver esaurito diciamo quelle che sono queste piccole nozioni che mi sento di darvi dall'alto o dal basso della mia esperienza e spero che insomma possiate trarne vantaggio se magari voi avete qualcosa da consigliare a me non fa mai male assolutamente quindi vi aspetto nei commenti ci vediamo ogni giorno live su twitch qui lo sapete solitamente una volta ogni due giorni ormai ci siamo partiremo carichi con sto FIFA 21 e a nulla vi saluto vi auguro una buona giornata and peace